www.mesmerism.info 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 io mi chiedo che non sono le famiglie di voi io non l'ho riuscito, sennò cazzo te ne vanno accorgere loro no, e perchè mi vedono io, e c'è i miei compagni non sono deciso che non ci sono deciso, non mi chiedevo con i miei compagni io non mi sono schierato perchè non mi interessa a livello io sono con tutte le miei io mi sono schierato e ci facciamo fare una malattia per stare sicuro io sono un po' lì, io ne ho andato nel senso che io sono tutti amici bravo, quando sei vuoto alla sera tu ti vai a friccarlo alla sera un po' a venire la mattina, come ha fatto quello cretino ma infatti il discorso è che c'è tua amicella, amicecca io mi metto nè a parte nè nè io mi metto nè nè nè, cerco di accontentare tutti i tuoi ma è brava, è brava che aveva avuto me però Fabio, sai cosa tu, stai sentendo frate io sono venuto qua per te, non per me a me che cazzo ne ho avuto, io ne manco il mio candidato però io siccome sono il referente dell'Azzurretto io sono io, mi hanno il mio piede questi venuti a me, sono venuti stasera e mi hanno detto ti stai parlando di vedi come c'è io avevo un po' a presentare tutto il suo mercato ha detto frate noi a chi ci hanno fatto un contratto si scade alle 30 giugno, siccome ne risulta che sta facendo a BAC, o bene dopo che si fa più exami quando arriva alle 30 giugno, perchè tu lo sai ormai lui non c'è nessuna relazione, le relazioni sono state già decretate, non di moda parecchio ma tu voglio dire, che cazzo nemmeno in balagare che non puoi mai fare le ticare a me questa gente che dice, o mi fai le ticare a chi f***a ma io dove stai facendo campagna allora? campagna non stai facendo, francesco tu no, 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 no ma tu una volta ci vuoi dare per coscienza uno da una cellula, ma faccio dare uno l'altro cinque voto, fagli da Marcello, noi lo abbiamo stravito allora, loro, loro, noi ancora andiamo parati io ti sto parlando che loro sono quattro e c'è Massimo Giardini pure, quindi ci sono quei quattro no, 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 no tu hai voto, vai a fare i radici tu hai la mamma, tu hai la mamma o hai la Marcello, che Marcello va a confermare che Marcello sarà l'assessore e poi ho confermare la decara ma io, oi bra io ti voglio bene, ma una cosa che mi dispiagisce poi io ero tesso allora, non mi dire in questa situazione che ti stai f***a, ti è un amico ci riesce, è giusto quello tradizionale ma anche quando ti ho avuto e infatti il capo non ci servisci dai dai non ci servisci e dai noi io ho una voce ha un voto ma anche tu piange essendo, per 10 anni tu corriendo